Musica Paolo Schofi, Futura Umanità insieme ad Ampi, Amod e altri sponsor importanti promuove una bella ed importante mostra fotografica di contenuti mediali, di approfondimento su Roma partigiana. Questa non è soltanto la mostra, la mostra è una delle iniziative che facciamo, che durano quattro giorni, dedicata a Roma partigiana, la città contro l'occupazione nazista e abbiamo quattro giornate, le abbiamo titolate per la democrazia e la libertà, con film, discussioni, dibattiti, musica, mostre, che si conclude questa iniziativa di quattro giorni sabato mattina con un convegno in cui ci sarà un relatore che è Claudio Fracassi, ex direttore del Paese sere di avvenimenti e che ha scritto un libro molto importante appunto su quel periodo di Roma occupata. Ci saranno vari interventi e ci sarà anche l'intervento dello studente, presidente del coordinamento degli studenti delle scuole di Roma che parlerà sull'antifascismo tra gli studenti. Poi concludiamo la serata con il coro di canti popolari del Circolo Giannebosio con Sara Modigliani e altri esponenti del Circolo. Abbiamo voluto prendere questa iniziativa perché avvertiamo in questo momento la necessità di recuperare le radici su cui si è costruita la democrazia in Italia che oggi viene messa in discussione, ma il recupero di queste radici non vuol dire camminare in avanti con la faccia rivolta all'indietro, vuol dire invece recuperare la storia per affrontare i temi del presente e per costruire un futuro, un futuro migliore di democrazia, di partecipazione in cui siano rispettati i diritti previsti dalla Costituzione nata dalla Resistenza. In due parole ciò vi possiamo dire che questa è una storia che non smette mai di dover essere raccontata. Esattamente, è una storia che non deve essere mai, non si deve mai smettere di raccontare, ma ha anche una storia che ha un lascito attuale e il lascito attuale è la Costituzione repubblicana fondata sul lavoro, la democrazia fondata sul lavoro. La Repubblica è costruita appunto sulla base di questa Costituzione e sulla base della lotta antifascista. Questa è la Costituzione della Repubblica antifascista che bisogna applicare oggi in un periodo rischioso e difficile.